e benvenuti ragazzi sono GES con un nuovo video oggi siamo sull'unboxing della Collector Edition di Call of Duty Black Ops 4 in realtà la Mystery Box Edition per PS4 quindi vediamo subito di andare a farli le aperture puer fuecto dopo faccio cascare il monitor via il cartellone c'è un altro giro di cutter da fare quindi perfetto uno dei molezzi del cutter è buona abbastanza spazio dietro qua abbiamo dei poster credo siano dei poster mi sembra di si posteri in rilievo poi abbiamo cartone poi qui all'altro non riesco a fare un livello con la telecamera purtroppo ora non ho più niente spazio di manovra pira qua niente qua niente qua niente il master ecco faccio cosi una manovra molto molto osti infatti io spusta tutte le camera spuso tutto io ce la farò ops perfetto coperchio ragazzi è bellissima questa cosa qua metti a fuoco